Si è spento questa notte a seguito di una terribile malattia il nostro direttore Pasquale Pacilio, colonna portante dell'emittenza privata abruzzese, lascia un vuoto incolmabile nel mondo dell'informazione regionale. È così che la redazione di Reteotto annuncia la triste notizia, quasi una lettera a cuore aperto per ricordare il suo ruolo portante, la sua storia lavorativa e anche quella umana. Pasquale Pacilio è morto a 67 anni, la sua storia in Abruzzo inizia alla fine degli anni 70, originario di Gricignano di Averza in provincia di Caserta, diventato uno dei padri fondatori dell'emittenza locale, è stato direttore di Telemare e successivamente di Reteotto. Di lui la redazione ricorda le spiccate doti caratteriale, definendolo straordinario anchorman capace di conciliare sapienza e ironia. Storiche le sue interviste a personaggi della cultura e della politica, tra i quali Remo Gaspari. Tantissimi messaggi a lui dedicati da telespettatori e uomini della politica regionale. Il governatore della regione scrive di lui, apprendo con sgomento e profondissima tristezza della scomparsa di Pasquale Pacilio. Egli è stato un elemento fondamentale per la modernizzazione e la crescita della consapevolezza nella nostra regione. Ha fatto conoscere la dimensione del dibattito e le classi dirigenti a tutte le famiglie, entrando nelle case degli abruzzesi con il garbo e la simpatia che tutti gli riconoscevano. La sua scomparsa è una notizia che addolora l'intera regione e tutto il mondo dell'informazione. Pacilio ha raccontato e promosso l'immagine della nostra regione per 40 anni, contribuendo in maniera significativa alla nascita delle televisioni private. Così scrive il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio. Ad intervenire anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Stefano Pallotta, che lo definisce esempio di professionalità e umanità. Cordoglio anche da parte della senatrice Stefania Pezzopane, il consigliere regionale Lorenzo Sospiri, il parlamentare Gianni Melilla, le associazioni ambientaliste che sottolineano la sua sensibilità ai temi proposti. E poi messaggi dal sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, e da quello di Montesilvano, Francesco Maragno. Una lunga carriera che lo ha reso familiare in tutta la regione, al quale tutti vogliono rivolgere un ultimo pensiero. La sua ultima apparizione, in uno dei suoi format di successo, lo speciale Elezioni del giugno scorso, Gialle Presi con la malattia ha condotto la trasmissione per diverse ore, con la consueta professionalità e competenza. Lascia la moglie Giulia e i tre figli, Massimo, Marco e Silvia. I funerali si svolgeranno domani, sabato 30 luglio, nella Cattedrale di San Cetteo, a Pescara, le 10.30.